Partiamo? Buongiorno, sono Alessandro Camisa della GECAM, con sede a Parma. Noi siamo specializzati in macchine per la sbavatura, finitura, smerigliatura, pulitura dei metalli, quindi lamiera, pezzi di metallo, alluminio, ram, eccetera. Facciamo anche macchine speciali, quindi applicate con applicazioni particolari per i clienti che devono risolvere dei problemi sempre di sbavatura e finitura. In fiera quest'anno abbiamo portato una macchina che ci dà molte soddisfazioni a livello tecnico e anche commerciale, una macchina che arrotonda lo spigolo delle lamiere sotto e sopra contemporaneamente. Abbiamo portato anche una macchina particolare salda spigoli per saldare gli spigoli delle lamiere in automatico e una macchina per arrotondare gli spigoli delle scatole elettriche saldate. Ritorniamo...